Più due, palla in mano, poco più di un minuto da giocare, pronto a entrare Filhoi, pronto a rientrare anche Melvin Ejim per l'Humanarair, che ha un altro attacco importantissimo. Si va da Stefano, Tonut, il pallo forse in uscita, qui sì c'era un pallo, poi lo scarico, la riapertura, Brahmos, da tre punti aperto, la tripla di Michael Brahmos, Andrea, sostino di sollievo.